La vita del filosofo inglese Thomas Hobbes fu esemplare per coerenza. Fin dall'infante mostrò una forte predilizione per gli studi classici, tanto che a soli 15 anni tradusse dal greco in latino la Medea di Euripide. La fama di Hobbes è legata soprattutto all'Ediatano, il testo in cui espresse con la massima chiarezza le dottrine del meccanicismo scientifico. Hobbes è oggi considerato il lontano progenitore dell'attuale cibernetica, la scienza che controlla le macchine intelligenti attraverso il caldo matematico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.